Canti di Natale, mille bolle di sapone, addirittura mangio a fuoco. Grande festa in piazza Pertini, ospedale Toganeo, in vista delle prossime festività. Acceso l'albero, illuminato il presepe, per grandi e piccini un momento di allegria. Ad aspettare i bambini c'era poi lui, babbo Natale, ansioso di ricevere tutte le letterine. A riscaldare l'atmosfera, cioccolata calda e vin brulè.